Hai mai pensato al perché ti senti in un certo modo? È ora che tu conosca le tue emozioni. Quando le cose vanno male, ecco rabbia. Lui è rabbia. Lui farà in modo che il mondo sappia che rabbia ha il controllo. Ma ciò a cui dovete fare davvero attenzione è quando perde il controllo. Fai la conoscenza del... Quando nella tua vita va tutto bene, è Gioia che prende il controllo. Questa è Gioia. Con il suo spirito inarrestabile e un'imbattibile energia, Gioia ti regala una faccia sorridente e... Ma che importa? Festeggiamo! Fai... Quando il pericolo è in agguato, paura è lì per salvarti. Con la velocità e la saggezza, paura valuta la situazione e distende i nervi. Nel suo modo speciale. Lui è questo. Grazie, paura. Fai la... Quando le cose non vanno per il verso giusto, è Tristezza che prende il controllo. Questa è Tristezza. Con un tocco di cura e un cuore gentile, Tristezza entra in azione per lasciarti... Ho detto Tristezza entra in azione. Tristezza? Oh, Tristezza. Fai la con... A volte capitano cose repellenti. Succede quando Disgusto prende il controllo. Questa è Disgusto. Vi aiuta nella vostra vita sociale e sui piccoli pasticci della vita. Disgusto è lì per... Beh... Resisti!